Sono Enrico Maria Corno di Sportar24, siamo gli SchiTest 2017 di Pampeago in cui tutte le aziende produttrici di sci e scarponi portano di fronte al mercato tutti i nuovi prodotti per l'anno prossimo. In questo caso parliamo di un nuovo scarpone, il Rossignol Iro SI 130, guardatelo bene perché da un punto di vista estetico sarà lo scarpone che vedrete ai piedi di Christopher Neroffer la prossima stagione. Parliamo quindi con Massimo Ramella, il promoter di Rossignol, dici tutto di questo scarpone e già che ci sei raccontaci quali sono le differenze tra quello che troviamo in negozio e quello che in Neroffer effettivamente mette ai piedi. Parlando della scarpa che ho in mano adesso, naturalmente la scarpa race della linea race è commerciale, commerciale distingue le scarpe race che si utilizzano, che si vendono in negozio normalmente, che utilizziamo tutti noi e le scarpe work up che sono quelle che utilizzano gli atleti in gara di Coppa del Mondo. Questa scarpa qua in particolare nasce dalla scarpa di Coppa del Mondo, quindi la forma dello scafo è assolutamente identica, naturalmente la pianta del piede è diversa e gli spessori delle plastiche sono diverse. Per quel che riguarda questa scarpa qua abbiamo un 97 di pianta e un flex di 130. Come potete poi ben vedere dalle immagini, la scarpa non ha tacchi e suole morbide, quindi è una scarpa diretta, una zeppa piena, in modo che ci sia una trasmissione dell'impulso diretta su quello che è l'attacco. Tutti i particolari sono in funzione del fatto che è una scarpa che deve dare la massima performance per gli sciatori, ripeto, che non fanno le gare comunque. Quanti tipi di flex, di durezza ci sono sull'Iro SI? Allora, l'Iro SI 130 ha due flex, 130 e 110 e nella versione 110 abbiamo anche due piante, la pianta 97 come questa e la pianta 100 che è quella un pochettino più confortevola, un pochettino più larga. Per quel che riguarda invece le differenze tra questa e la scarpa che poi avranno i piedi Cristoferino e Roffer, semplicemente, come vi ho detto prima, la scarpa Work Up è molto più stretta in pianta e ha delle plastiche più spesse e cambia la scarpetta interna. Il resto, la forma dello scafo, quella che vedete qua, è la stessa. Grazie. 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 Grazie a tutti